bello a tutti ragazzi qui The Mirrors e oggi siamo qui con un nuovo video oggi cosa potevamo non portarvi se Call of Duty Black Ops 2 Call of Duty diciamo, Call of Duty soprattutto Call of Duty Black Ops 2 è uno dei giochi più belli fatti per Xbox 360 perché appunto oggi siamo Xbox 360 e oggi siamo qui a scriverci su Jack Match io e Iona e comunque se non avete visto i video di presentazione volete conoscere anche gli altri due membri che partecipano al nostro canale Andrea, lasciamo il video in descrizione mi raccomando una cosa più importante iscrivetevi e lasciate un like su video immediatamente un like ok, non parliamo troppo e cominciamo proprio a giocare oggi avevo pensato di fare una partita gioco delle armi per chi non sapessi di raffigliazione su Newton 2025 quindi iniziamo prima mattina iniziamo prima un'annia su questo gioco e meno male che non è con una sfida a Snyder perché se no, non ci vedo male ok, quindi cominciamo proprio su Newton 2025 gioco delle armi gioco delle armi gioco delle armi quindi com'è che si faceva una dimensione? ah, un portale ok spesso no, no 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 è meglio no 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 Comunque iscrivetevi al canale se vi piace magari se vi piace così cominciate a seguirci Oh mi hai racconto che hai girato Eh mi hai racconto Guarda me lo schermo degli albi sono tutti bravi Mi hai racconto lì che t'avevo visto Ho visto che stai camminando verso qua Madonna che kill No non posso perdere dai Non posso proprio perdere Ed ecco qua Siamo 20 a 40 C'è due Cazzo non avevo visto Che cazzo dai un granchio che ti interterra One shot proprio One shot long Che uccisione ragazzi Che uccisione ragazzi Che uccisione ti avevo preso proprio Vabbè lo sapevo Ecco siamo pari già Lo recupera No Mannaggia che stupido E comunque Non faremo solo Giochi delle armi Giochi delle armi Su Black Ops perché avremo anche altri episodi Costantemente Come si concentra Perché in realtà Muore sempre Faremo altri episodi Nooo che c'è un granchio che ti metto E che avevo passato tipo il mutatore Che cazzo è successo E dì anche gli altri giochi che faremo in questo canale Ah su questo canale faremo anche FIFA 15 Aspettata Unity Far Cry 4 Questo su PS4 E su Xbox 360 Faremo A parte che abbiamo già detto nel video iniziale Quindi appunto Lo potrebbero a vedere Che lo riportiamo di nuovo Che palle Ehm E ora ci contentiamo a giocare Da dove venite È un professionista Esatto Ma te non muore Eh non muore Mamma mia E passa il mio contagio da Da 50 a 20 Che schifo di più chile Ehm muore però Poi quando faccio i miei cecchini Però si aro Ehm È vero cazzo Diciamo che è un po' vero Nooo che chile Questa è una testa No questa arma che fa schifo Oppure a me Deve capire che io odio questa arma No no vabbè non mi ha volato Vabbè ma spara non entra Sì sulle palle mi ho sparato Ehm vabbè è ancora molto recuperabile Cioè sei giù Ehm che c'è Vabbè sì che è possibile Assurdo bella Ok stiamo tornati in parità Questa artiera è molto combattuta I love me la now No Come sei morto male Ehm I can't fly Ho un'unzione anche qui sta Ma c'è cecchino C'è ceco Dubbata L'unzione anche qui Sì Mi lascia la chi lego cecco Un po' di no Un po' di no Sì Ti all'unzione anche qui Oddio Mbappola Muori muori Com'era? Com'era cecchino? Com'era cecchino? C'era molto ha un po' Checchino? Mbappola nooo che schifo no però questo fusile fa schifo avete capito che non potremmo fare un'arma più schifosa di questo ma quello non c'è schifo e lo so è ballista con no 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 hitmarker no hitmarker ci ha avuto due hitmarker vai così vai così vai così un altro po' di culo oddio dai dietro le scale dai dietro le scale no vergogna mamma mia vabbè lo vedi hitmarker hitmarker vabbè lo vedi hitmarker vabbè lo vedi hitmarker vabbè non muore manco con lanciarazzi è morti grazie che cazzo mancano 3 punti a Matteo per vincere la partita uuuu uuuu no hitmarker hitmarker maledetto no immaginate quanto hai visto l'hitmarker questo gioco ballista soprattutto si ballista con il hit no no eccoci qua ragazzi dai ti hai portato a ciò che sta andando sotto i can't lose hitmarker hitmarker sii oh zio che è una mia staccata che vai 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 ballistico vai ballistico no sii sii scelol min er learn and yo n cosa era ada guarda che chino io ha guarda che chino mano vuoi rimpler non mi ha preso non mi ha preso non mi ha preso va a vincere allora vediamo qui che siamo presto ci sarà la rivincita e comunque il video è finito se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento mi raccomando vi ricordo di iscrivervi qui vi salutiamo Demiroz io e Iona e ci vediamo in un prossimo video bravo ste ragazzi bravo ste ragazzi